se oggi c'avevo pochissimo tempo e quindi mi sto facendo uno spaghettino faccio uno spaghettino col calamaro che ci mette pochissimo lo spaghettino già sta cuocendo e sta facendo soffritto di aglio, di ambo di prezzemolo e peperoncino ora lo tolgo dal soffritto e ci metto il calamaro tolto l'aglio, il cecino e il calamaro che ho tagliato sottilissimo e ci aggiungiamo poi un mestolino di acqua, di cottura della tasta potete capire che profumo c'è che si sente facciamo un po' così aggiungiamo questo piccolo mestolino basta e lasciamo andare fino a cottura un minuto, un minuto e mezzo ci vediamo quando è pronta la pasta per assaggiare questa bontà, quello che vedete è questo il fatto che fate 10 minuti, calamaretto fresco e lo vedete lì andiamo ad assaggiare e lo spettacolo non ho appetito ragazzi fatelo quando c'è da poco tempo il calamaro si servono soli mentre cuoce la pasta, provate il suono e mangiate una punta enorme vi saluto da Pope ciao e iscrivetevi al canale ciao ciao ciao